Domenica 25 dalle 7 alle 23 saremo chiamati al voto. Le sedi in cui si vota nel Comune di Pordenone tornano ad essere quelle tradizionali, cioè le scuole, eccezione fatta per chi votava nella scuola di Via Fonda, quindi la Narvesa, che per ragioni legate alla riqualificazione della stessa è chiusa. Queste persone voteranno nel prefabbricato di Via Peruzza, accanto al Flora, di fronte al centro sportivo di Torre. Coloro i quali sono in quarantena fiduciaria oppure sono affetti da Covid potranno votare, dovranno però richiedere il servizio telefonando al numero che possono trovare sul sito del Comune entro sabato 24 settembre. Chi avesse smarrito la tessera elettorale, chi l'avesse completata o chi ha cambiato residenza può chiedere anche il giorno del voto di avere una tessera nuova rivolgendosi agli uffici dell'Anagrafe. Infine per i genitori e dei ragazzini della scuola elementare che ovviamente lunedì mattina non potranno andare perché ci sono ancora le operazioni per il disallestimento dei seggi e per lo spoglio delle schede elettorali, il Comune ha garantito un servizio ludico, ricreativo, di divertimento nei centri sportivi e nelle palestre. Ecco, queste sono le azioni che fa un Comune che è all'avanguardia e che si preoccupa non soltanto della gente che vada a votare, ma di non creare sconquasto nelle famiglie per questo momento importante nel nostro Paese. E pertanto pensiamo di, con l'idea del nostro sindaco di Stato di Ciena, è stata straordinariamente eccezionale, che ci ha proprio coinvolto, non soltanto noi assessori, ma anche gli uffici, ma soprattutto anche l'impiantistica sportiva e abbiamo visto che hanno dialogato molto, sia tutto il reparto di istruzioni, anche tutto il reparto sportivo, per collaborare insieme per raggiungere un obiettivo. E questo per me è stato un grande successo perché, come sempre dico, per noi è importante la famiglia, l'istruzione e il mondo sportivo che concludono la giornata di un nostro bambino. Per le operazioni di Spoglio, la mattina di lunedì 26, gli uffici di Anagrafe e Stato Civile saranno chiusi. Chi aveva già preso appuntamento per quel giorno sarà ricontattato e verrà fissata una nuova data. Per tutte le informazioni potete consultare il sito web del comune www.comune.pordenone.it slash elezioni